bella a tutti amici youtube, qui è Francesco De Martino e oggi siamo nel mio primo vlog, appunto vi parlerò di alcuni miei prossimi video in compagnia di un mio amico Sassi Russo ciao ragazzi vi lascerò il suo canale in descrizione ciao ragazzi oggi voglio parlare appunto dei miei prossimi video di alcuni tipi di giochi ad esempio fall of duty outlast 2 outlast pixel gun lost planet 3 lost planet 3 e poi faremo anche dei video online per PS3, per esempio GTA 4 e Uncharted 2 3 contro di me ovviamente in chiamata in chiamata, appunto farò proprio questo video se ci sono giochi che volete che faccia scrivetemelo nella descrizione noi ci vediamo in un prossimo video e bella ragazzi